Terra Amara Anticipazioni, Demir annuncia a Umit che divorzierà da Zulia. Le nuvole grigie all'orizzonte sono per Zulia Alton, il El Altimbilek, nella prossima puntata italiana di Terra Amara. Attualmente innamorato del dottor Umit Karaman, Andes Oral, Demir Yaman, Mura Unal Mis, vuole davvero porre fine al suo matrimonio con il divorzio, rinunciando così a Zulia. Terra Amara, News, Demir e la sua storia d'amore con il Mit prima di tutto. Va notato che la storia d'amore di Demir con Umit sarà basata su un grande inganno. Vediamo come si svolge questa storia. La donna, infatti, gli si avvicinerà su ordine del suo alleato Fikre Fekeli, Furkan Palali, il quale, in quanto figlio bastardo del defunto Adnani Amman, sfogherà tutta la sua rabbia sul proprio fratellastro, nonostante l'invito di zio. Ali Rame, Kirem Alisik, mantiene la calma non appena scopre tutta la verità sulle sue origini. Anche se la storia d'amore inizierà con una premessa sbagliata, col tempo Umit si innamorerà davvero di Demir e inizierà a sentirsi geloso di Zulia. È per questo motivo, temendo di farsi male troppo, Umit cercherà di sbarazzarsi di Demir, ma non sarà così facile. In più di un'occasione, il vero uomo d'affari ripeterà a Karaman che è lei la donna con cui vuole stare, motivo per cui la inviterà a trascorrere un fine settimana lontano dalla cucurova e dagli occhi curiosi. Terra amara, spoiler, Demir vuole il divorzio da Zulia. Occhio dunque a tutto quello che accadrà nel fine settimana. Demir informerà Zulia che deve restare qualche giorno ad Ankara per incontrare un ministro importante, poi affitterà una lussuosa casa a due piani in città. In questo modo i due innamorati avrebbero passato molto tempo insieme, durante il quale Umit avrebbe mostrato tutto il suo imbarazzo, facendo notare a Demir che non voleva essere un'altra donna per sempre. Ovviamente, Demir rassicurerà ancora una volta Umit, sottolineando che il cuore di Zulia appartiene ancora al difunto il Masakeya, Ugur Gunnes, e dicendogli che vive sotto lo stesso tetto con sua moglie solo per il bene di Adnan e Leila. Tuttavia, nonostante queste premesse, Demir sorprenderà Umit, ma come? Annunciato che al loro ritorno dal viaggio chiederà il divorzio da Zulia. Terra amara. Trama, il progetto futuro di Demir con il Mit queste parole ovviamente scalderanno il cuore di Umit. Soprattutto quando Demir gli dirà che Zulia potrà restare e vivere con i suoi figli nella tenuta di Yamana poiché ha intenzione di costruire una nuova casa per entrambi. Futuro. Dove potranno costruirsi una vita di felicità e amore. Insomma, Demir sarebbe disposto a lasciarsi alle spalle la travagliata storia d'amore con Zulia per Umit. Ma in questa fase della storia continuerà a trascurare un elemento molto importante. Ovvero che il Karamen originale lo stava seducendo per un accordo punitivo con Fikri. Un dettaglio che apparirà in maniera massiccia nelle puntate successive e creerà non poche oscillazioni per la trama, perché è Zulia che si prenderà il rischio per prima.